Ammirate gli enormi poteri magici del grande Poof di Nih! Ciao, Rufus! Stupite per come fluttuà nell'aria e poi mentre fa levitare gli oggetti! Come riesce a farlo? È Pony miracoloso! Wow! È chiaro che sta usando dei fili! Ma da quando in qua i Pony avrebbero la magia vera? Oh, per me è finita! Da quando la magia vera è tornata equestria, nessun Pony è interessato ai miei trucchetti! Cosa? Andiamo! Non può essere vero, Ruf! Eh, volevo dire Uf di Nih! Ah, li sto aiutando a trasferirsi! Dove la volete, la casa? Visto? Ormai sono inutile! Sei un Pony terrestre! Perché non usi la tua magia? Cresci, cresci, piante! È fantastica! Ogni volta che pianto qualcosa, poi mi dimentico di annaffiare e così le piante muoiono! Io non possiedo alcuna magia! Ho solamente i miei trucchetti! E adesso il loro posto è nella spazzatura! Per tua grande fortuna, però, la mia specialità è dare a qualsiasi cosa una seconda occasione! Guarda! Spazzatura che si trasforma in un favoloso... Papian! Ta-da! Oh! Pesantino! Coraggio! Mi trasformerò in qualcosa di nuovo e anche di stupendo! E così, saresti un aspirante sceriffo, giusto? Beh, è un lavoro stupendo, ma molto faticoso! Devi avere sotto controllo tutto ciò che ti circonda! Ma che cosa? Hai appena ingoiato la chiave? Ma perché l'hai fatto? Chiedo scusa. Sono un artista escapologo. Ingoiare chiavi è la mia specialità! Giro di carte, Pony! E Ufdini sarà perfetto per proteggere i gioielli della corona! Quali gioielli della corona? Ma dove sono finiti? E come ci è riuscito? Ladro! Guardie! Ok, dobbiamo andare! Dammi un tè, Alfa B. Ha la menta piperita con la P. Arriva subito! Ta-da! Io non pago per tutti questi tè. Va da sé! Oh, non c'è speranza. I miei trucchi non sono più apprezzati, quindi devo dimenticare Ufdini e tornare a essere il vecchio Rufus. No, diciamo che non siamo ancora riusciti a uniriciclarti nella cosa che fa per te. No, sta caricando. Così rischiamo di perderci il nuovo live di Ruby. Devi tenere il telefono molto più in alto di così. Oh, è normale che la mia magia non interessi più a nessuno. Tutti i Pony la sanno fare. Sì, fantastico! Non perderò neanche un nitrito del live di Ruby. Ehi, Rubisqueak! Non sono ancora riuscita a trovare un'entrata in scena indimenticabile. Facci una triste? Mandate i vostri suggerimenti nei commenti. Oh, mi è venuta una grande idea! Fa' attenzione! Wow, quel Pony sta precipitando! Qualcuno di voi faccia qualche cosa! Attenzione! Ah, precipita troppo in fredda! Beh, e se queste liane fossero più lunghe? Oh! Sella cadabra! Wow! Io lo sapevo! Come vedi, hai sempre avuto la magia dei Pony terrestri. È proprio vero. Serviva solo una buona ragione per farla funzionare. Oof, Dini, hai appena salvato Glory! Non sei solo un illusionista, tu sei un eroe! Che cosa ho detto, eh? Niente merita di finire nella spazzatura. Ora sei uniriciclato! Aha! E per il tuo prossimo numero... Ringraziamo il mio amico Oof, Dini per l'idea di un'entrata in scena indimenticabile. È magica! Cosa ne pensi, Izzy? Pony, rapoloso!